Abbiamo parlato di creatività e innovazione quali driver di successo. Per Alluflon, la creatività in che modo concretamente ha permesso di facilitarvi la via verso la ripresa che tante aziende stanno cercando? Certo. Noi ci siamo inventati, produciamo pentolame in alluminio rivestito, ci siamo inventati un rivestimento nuovo. Anzi, abbiamo preso da un altro settore un rivestimento e l'abbiamo adattato al nostro prodotto che è un prodotto per uso alimentare. Ma la cosa forse più azzeccata che è stata è stata quella della scelta del colore, perché tutto il pentolame nel rivestimento antiaderente ha un colore interno scuro. Mentre invece la tradizione, anche e soprattutto la tradizione italiana, viene da un colore interno degli strumenti di cottura chiaro, il bianco dei ferri smaltati piuttosto che delle ceramiche eccetera. Noi abbiamo proposto il colore del rivestimento interno bianco, una grande rottura perché tutto il mondo era abituato al nero, la diffidenza rispetto al bianco per sporcare, che si sporca eccetera. Quindi abbiamo dovuto costruire intorno una comunicazione che ci permettesse di presentarlo con tutti i suoi effetti. Per noi è difficile, il settore nostro è un settore tradizionale, il pentolame è sempre nell'immaginario collettivo con una sua memoria, quindi proporre cose nuove è abbastanza difficile. Giochiamo sì sul colore, però sia la funzionalità che la tradizione ci legano moltissimo. Questa è stata un'innovazione che ci ha aiutato molto. Da lì abbiamo anche capito, visto il successo che abbiamo avuto perché in Italia abbiamo raddoppiato in un anno il mercato, abbiamo deciso di strutturare l'innovazione attraverso un ufficio vero e proprio in modo da poter dare continuità a questo metodo che lì ci siamo trovati a inventare nel momento della crisi, visto che non si riusciva a proporre niente al mercato, ci siamo dovuti ingegnare. Ma questo modo di fare l'abbiamo reso struttura. E in una parola per voi, quanto conta l'internazionalizzazione? Perché oggi si parla naturalmente anche di questo. Sì, l'internazionalizzazione, noi vendiamo fra il 70 e l'80% del nostro prodotto all'estero. La ricerca di fatturati, quindi di volumi maggiori, ci permette di poter investire su impianti che ci permettono di sostenere l'innovazione. Oggi non è pensabile lavorare su volumi piccoli, bisogna lavorare su grandi volumi. La difficoltà è quella di mantenere gli standard qualitativi di quando eri piccolo e apprezzato, quindi servono grandi investimenti. A questo punto il mercato mondiale diventa una necessità, altrimenti dove recuperiamo i volumi per poter investire. Dottor Montagna, un'ultima battuta relativamente proprio al ruolo della fiera. In un mondo globalizzato in cui cose e persone diventano molto più facilmente linkabili, in che modo la fiera può essere utile per le piccole e medie imprese? La fiera deve essere parte di quel processo che ogni azienda fa, o perlomeno che noi abbiamo imparato a fare negli anni, cioè non andare in fiera a pescare, aspettando che qualcuno passi di lì e entri attirato dalla bellezza del tuo stand. Ma la fiera è il momento finale di un lavoro che dura mesi di preparazione, di inviti, di ricerca del potenziale cliente. La fiera è il momento in cui tu presenti più concretamente, in maniera tattile, il tuo prodotto. Ma è quello. Allora, le fiere che lavorano per allargare questa possibilità di conoscenza sono le fiere di successo. Le altre, devo dire che spesso io penso che ci sia una certa inflazione, per cui se si riuscisse a ridurre sarebbe meglio. Dopo, ovviamente noi, per esempio, in Italia, essendo leader in Italia del nostro prodotto, facciamo fatica a mancare a qualche fiera importante. Anche se in realtà, poi spesso non ci serve.